Questa per me è una città maledetta. Ha già ucciso mio marito. Non voglio che distrugga anche loro. Se ho chiesto il trasferimento soprattutto per lei verrà finita in un dritto giro. Al primo posto vengono i miei figli. Qualunque cosa accadano. Non c'è tempo! Andiamo! Avete ancora 30 minuti. Scusatemi, non mi sono presentata. Io sono Maria Guerra. Il vostro nuovo comandante. E spero di essere a altezza.